Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Allora, da dove partiamo? Noi quest'anno facciamo... Quest'anno buca e mezzo, sai quanti anni fa? Quest'anno, a marzo 2023, fa dieci anni. Quindi questa storia parte circa dieci anni fa. Però, secondo me parte... 32 anni fa. Ok. Perché da quando sono piccolo sono sempre stato un grandissimo appassionato di cibo. Tanto. Tanto. Sono cresciuto in due famiglie dove il cibo era qualcosa di davvero importante. Quella materna, mia nonna Assunta, dove per lei cucinare qualcosa era un dono che faceva una persona, no? Per farti felice. ricordo sempre, praticamente lei ogni volta che venivo mi preparava sempre con questo rituale, con un fantastico ruoto di pollo e patate al forno. e lei si sentiva proprio che lo faceva per renderti felice. per mia nonna Vincenza, invece, quella paterna, ho avuto proprio un altro tipo di approccio. Per nonna Vincenza il cibo era un modo per tenere unita una famiglia, una famiglia grandissima, perché per lei i momenti in cui cucinavamo, cucinavamo, erano quelli di aggregazione. Per esempio, da noi si facevano le conserve di pomodoro, tutta la famiglia, tutti i figli, tutte le nuore, tutti i nipotini. a noi nipotini era dato il compito di lavare le bottiglie con lo scovino, lo scovettino, ok? lavavamo queste bottiglie e vivevamo tutti quanti insieme questa cosa. Poi, anche con le nuore, mia nonna Vincenza era proprio la matriarca, ok? Mia nonna esercitava il suo potere attraverso la cucina. E quando decideva che si doveva fare, cioè era il momento dell'anno che si doveva fare, che ne so, i roccocò. Tu vedevi che puntualmente, cascasse il cielo, tutte le nuore e le figlie stavano là con questa maglia di legno enorme. Si dovevano fare i roccoronte, i posti di lombardimento. A caricare di pugno in questo impasto dei roccocò. E non si sa mai addio saltavano questa cosa. Poi oggi lo capisco, capire? Magari la poteva sembrare, semplicemente, ma in realtà lei lo faceva perché attraverso questo teneva insieme la famiglia. Niente, quindi nasco in queste famiglie in cui il cibo era un fatto davvero importante. E da piccolo ho sempre vissuto il cibo con un atteggiamento che è tutto diverso dagli altri. Ho sempre visto il bello anche in cose piccolissime. Adoravo i rituali che ci sono nella cucina. Per me era importante pure il momento in cui si scaravano le patate per fare i gnocchi. Più ancora degli gnocchi, cioè quel momento là, quell'attesa. Quei 30, 40, un uretto, a me mi parevano 3 ore. Perché io stavo là come il pazzo perché almeno una patata, mia mamma se me la doveva sbucciare al volo dopo che l'aveva bollita, si bucevo proprio in mano perché io mi dovevo mangiare un pezzetto di patate col sale sub. Che ero il tipo che mentre stavamo giocando a nascondino al 31 con pallone con Super Santos in mezzo alla strada, a un certo punto se mia nonna stava facendo qualcosa mi fermavo, dicevo aiuto a posto che rimarrò. Cioè andavo a vedere il momento in cui mia nonna stiva prima nel pulpetto. Mia nonna stava, oppure mi piaceva tantissimo il momento della domenica quando ci stava questa tavola imbandita con sopra tutte le braciole stese, non so se l'avete mai vista le braciole come sono fatte. Si stende la carne, si mettono gli ingredienti sopra e stanno tutte quante stese su una tavola e poi vengono arrotolate tutte quante e vengono infilzate con l'acqua e con lo spago. E con lo stuzzicadente e con lo spago. Quindi rispetto a tutti gli altri, sai, mi è già vivo questa vocazione. E' così forte che se oggi dovessi ricordare i momenti della mia vita, penso che sono scanditi da momenti culinari. Cioè oggi le mie coordinate temporali sono culinarie. Cioè ricordo esattamente vari passaggi nella mia vita attraverso il cibo. Cresco e questa passione comunque continua a essere una parte importantissima di me. Quando finalmente inizio a uscire dal quartiere, inizio ad andare a mangiare fuori e ricordo che quando andavo a mangiare fuori mi rincontravo con gli amici e iniziavo a raccontare loro questi posti in cui erano andati a mangiare. E vedevo che nei miei amici, forse per la prima volta, no? Rispetto agli anni precedenti, quando raccontavo queste esperienze, vedevo che i loro occhi brillavano come i miei. Quindi capivo che avevo questa capacità di far anche emozionare attraverso questi racconti sul cibo. Raccontavo questi posti, soprattutto uno che ho scoperto durante gli anni dell'università che è il mio posto preferito al mondo, è Fepanini. Si chiama Ciro Mazzilla. A monte di velocità. Bravo, mi hai preparato. Ma io ragazzi, a parte che ho fatto i compiti a casa, ma poi conosco, conosco Ciro Mazzilla. Sta a monte di velocità e praticamente è questo chioschetto costruito su marcia a piedi, dove ci sta questa abbraccia a vista e ci sta questo vecchietto, adesso avrà 70 anni Ciro, che fa questi panini all'abbraccia da 40 anni. Sta da 40 anni avanti a quella abbraccia a fare questi panini. Con quella abbraccia poi ci fa tutto, fa anche affoghe i frearielli dentro alle vignate, fa tutto là sopra. Ed è il mio posto preferito al mondo, è un posto dove ogni volta ci vado anche a ricaricarmi. Ok. Che è un po' un posto dell'anima per me. E raccontavo a tutti questo posto, a tutti. Tutti gli amici, portavo amici dappertutto. Li portavo dalla... Amici che abitavano in posti completamente diversi. Mi ricordo questi amici miei che mi volevano a Ciro ogni volta, che li facevo venire dalla... Io venivo da Pianura e dovevo andare a Monte di Proce. Allora li facevo venire da Torre del Greco. Quindi Torre del Greco, da Autostrada, tangenzia, e poi quella domiziana, no? Per andare a... E li portavo. Fulevo l'ora praticamente. Talmente che ci tenevo a condividere con loro questa esperienza. E poi a un certo punto è successa una cosa molto semplice, ho finito gli amici. Cioè non sapevo a chi ce l'era raccontata. Però mi piaceva tantissimo fare questa cosa. Cioè mi piaceva tantissimo pensare che attraverso il racconto di un posto potevo installare un legame con qualcuno, potevo condividere qualcosa di bello. E poiché negli anni avevo anche un po', non so se dire il talento, ma diciamo la passione per la scrittura, dissi ma sai che c'è? Mo finiti gli amici. Mo vediamo, proviamo a raccontarlo a qualcuno in più. Io sta cosa la faccio? Io ci provo? Eh magari. Cioè inizialmente dicevo mo ci provo e cose varie, ma che feci? Questa mia migliore amica, Maria, che tutt'oggi lavora con me, e dissi Maria aveva una reflex. Dissi Mario sai che c'è? Stasera che andiamo da Mazzilla, tengo in idea, porta sta reflex, porta la reflex. Maria dice ok. Dico andiamo là, no Maria stasera mangiamoci un panino, grazie a Dio, fai qualche foto, fai qualche foto a Ciro, qualche foto ai panini, fanno, piglio un panino, fanno una foto, Maria, così. Maria non sapeva niente. Tornai a casa, avevo l'idea di scrivere il primo articolo, di quello che poi è stato il mio blog. Oggi magari nessuno ci crederà, ma io ho scritto quell'articolo, e l'ho tenuto nascosto, per un mese, mi mettevo in scorno, pure se ho leggevo mia mamma, o mio fratello, l'ho tenuto nascosto, manco fosse i porno di una volta, lo tenivo in due cartelle sotto nascoste, perché avevo, io sono molto timido, avevo proprio paura che qualcuno lo leggesse, poi non lo so che è successo. E' cambiato qualcosa? Non lo so, poi all'improvviso, una sera ho visto scatto di coraggio, e dissi, è il momento. Mamma. Lo metto, ci provo. Sai quelli fatti che ti vengono, sai quando, tipo quelli fatti della notte, e dici, ma tengo questa idea, poi la mattina ti è uscito, e dici, no, è meglio che non, che strunzata, ci sono pensate, esatto, quella volta dissi, ma non faccio, non fa niente, come non ho fatto, ok, e lo metti sul mio Facebook personale, quindi dove avevo i classici amici che c'hanno contatto Facebook personale, ho subito, sto articolo iniziò a girare, iniziò ad essere apprezzato, gli amici facevano un sacco di complimenti, gli amici degli amici che iniziavano a passarsi quest'articolo, e dicevano, no, ma devo andare pure io, e vedevo che praticamente, effettivamente si stava materializzando online, quello che più o meno ho sempre, il fenomeno che tu avevi visto, ho sempre visto negli occhi dei miei amici, e presi coraggio, e dissi, vabbè, piano piano mi metto a fare, vado a fare un altro articolo, vado a fare un'altra cosa, vado a vedere quest'altro post, eccetera, eccetera, mi ricordo ancora che c'è stato un altro posto che amo tantissimo, che si chiama Panificio Michelangelo, Bob sta a cerco, la fa le pizze nel rutelluccio, non lo so se le conoscete, buonissime, cioè se oggi gli stai a dire, qual è la tua pizza preferita in assoluto, non dicesse, manca quella al forno napoletano, c'è stata la pizze nel rutelluccio, mamma mia, buonissima, e tutto questo per dire che tu praticamente, hai unito, innanzitutto per dire due cose, vai, che poi insomma era un momento quasi catartico, perché ti aspetta, ma noi qua comunque a tavola, c'è una cosa che a tavola non c'è mai stato, cioè vedi, aspettiamo, da un po' di contesto, chi ci sta guardando e dice, ma quelle cose che sono, hai ragione, è che Egidio ci ha fatto un regalo, ci ha fatto un regalo, è venuto qui con i panini di Pouac, con le armi, con le bombe a mano, è venuto armato, e noi allora, la voglia di farlo direttamente in camera era tanta, però non abbiamo saputo resistere, e quindi abbiamo qui giusto qualche morso superstite da fare insieme a tutti voi. Ti posso dire una cosa, stanno i fantasmi, dai un calcio un attimo alla scritta Espresso Neon, dai un calcio per favore, perché si spegne, comunque tutto questo per dire che Egidio, tu praticamente hai unito la storia della cucina, la storia degli ingredienti, insomma la passione che avevi per la cucina, alla scrittura, è partita, fai conto che non c'è mai stata, fai conto che non c'è mai stata, vabbè la mettiamo in post produzione, ma figurati, sì sì sì, alla tua passione, vabbè insomma la scrittura, e hai in un momento storico perfetto, hai inventato un fatto, hai creato un fatto, sì oggi forse si diceva sì, esatto, sono stato il primo food blog, esatto, io la volevo arrivare, tu ci ho l'ho mancappata, l'hai valpanino, ci continui di farlo? ci sta, no io l'ho finito, vabbè la questione è quale è che esatto, sei stato un po' il precursore, di quella che poi, perché in effetti io ti ripeto, io ti sei, se tu hai detto che hai iniziato nel 2013, io non avrò iniziato a seguirti nel 2013, perché ero poco più che bimbo, ma nel 2015 magari, già c'ero per esempio, e ricordo che all'epoca non esisteva, nemmeno il mestiere, perché oggi è il mestiere del food blogger, ma proprio il fenomeno del food blogging, cioè dell'andare in giro, prima esisteva già questa parola, mi era associata a chi faceva le ricette, su giallo zafferano, esattamente, poi col blog mio, è diventato più un, il ruolo di chi va, quasi un critico se vogliamo, mai considerato, mai considerato tale, anche perché il mio blog è sempre stato, il segreto del mio blog è stato quello, come vi ho detto prima, di far finta che sto raccontando a un mio amico quella cosa, il mio blog è scritto in questo linguaggio, quando tu leggi il mio blog, hai proprio la sensazione che stai parlando, che sto parlando all'amico, cosa che vera, perché tu stai parlando alla tua community, sì, però in quel caso non l'avevo, giusto, in quel caso non l'avevo, sono partito già con quest'idea, ho detto io vorrei raccontare queste esperienze, così come lo faccio ai miei amici, e quindi provare a instaurare quell'egame con i miei amici, anche con altre persone, comunque non so, prima stavamo parlando di Bob, esatto, di Bob, vado là, troppo bello, oggi sai magari muovete mille, migliaia di centinaia, migliaia di follower e cose varie, mi ricordo che mi presentai da Bob, che è questo mio amico, Elio, ricordatevi questo nome che ci dobbiamo tornare, questa persona, che mi porto da Bob, e praticamente Elio praticamente si metteva vergogna, Elio si voleva nascondere, io praticamente con questo cellulare in mano, con l'articolo di Mazzella, che avevo scritto inizialmente, in un altro paio, vado dal proprietario di Bob, e oggi veramente siamo amicissimi, e faccio, guarda senti, ma potrei, ho creato questo blog, dove racconto i vostri da mangiare, all'epoca questa cosa non era, era pure strana, era strana, non esisteva, cioè il mio amico si voleva nascondere, Bob non capiva, cioè si fidò, ma che sta facendo questa macchina fotografica di paro, cioè non si era mai vista questa cosa, capito, che vuole fare, e dissi, guarda, ho anche, ho 200 follow, disse, io sto contento, ho 200 follow, facciamo sta cosa, se ti fa piacere, vedi, sono partita con sta cosa, partita con sta cosa, anche là, fu uno dei posti, che poi è diventato frequentatissimo, dalla community, dalla community che verrà, Elio, esatto, Elio, praticamente, questo mio carissimo amico, universitario, e che oggi ancora, frequento con affetto, che è stato quello che, ha ispirato il nome del mio blog, e quindi di conseguenza del mio account, e quindi di conseguenza del mio locale, Puc, Puc e Matt, le avventure culinarie di Puc e Matt, ok, perché? Perché quando andavamo a mangiare con Elio, ed era uno di quelli che veniva da Somma Vesuviana, fino a Dumazzella, Elio si lasciava sempre andare a delle frasi affettuose, a dei confronti, dicendo, Durante il viaggio immagino, no, dopo il viaggio, dopo il viaggio, dopo che avevamo mangiato, e che gli sei, io e qualche altro amico, ci avevamo, paghiamo di Mazzella è tanto, ci avevamo uno e mezzo due, ci vogliono quattro persone per finirne uno, eh, più, no, ma una persona può anche lasciarlo, ok, noi ci mangiamo uno e mezzo due, e si faceva, e Gisi, ve lo dico prima, senza il difetto di Elio, ok, e Gisi, proprio uno può che mette, uno può che mette, e io dissi, cazzo, ma quando è bella questa cosa, io voglio chiamare il mio blog, devo chiamare il mio blog, in questo modo, e trovai questa chiave, le avventure culinarie, di Puc, staccato, e staccato, mette, di Puc e mette, inizialmente le persone pensavano fossero due personaggi, quando poi l'hanno capito, prima di mette, due persone che magari ti seguivano dopo due mesi, dopo due, tre mesi, a un certo punto capisci, hai muoci capito, Puc e mette, è bellissimo, mi sto immaginando questo viaggio con l'amico tuo, che ti fa, cioè sono queste, sono le cose belle che ti ricordi da ragazzo, da universitario, esatto, bellissimo, le storie che ti racconti col tuo amico, la ti ricordi, quella volta che siamo andati a mangiare, nel viaggio di ritorno, ma tu ti immagini Elio quando è stato, Elio, importante nella tua vita, nella mia vita, perché pare non essere pensato, ma questa è una sliding door, cioè, vuoi sapere come si era chiamato un blog? Se non fosse stato Puc e mette. Il nome che avresti dato tu? Non lo sa nessuno. Cioè? 18 bastoncini. 18 bastoncini? Tu dicevo, ora stavo parlando con 18 bastoncini, invece di Puc e mette. Ti posso chiedere come mai? Adesso si poteva chiamarsi 18 bastoncini in un Puc. No, 18 bastoncini di blog, poi non sa, ce l'ho più. Eh no, però dico ipoteticamente, forse anche... Si chiama Capitano Burger. Perché 18 bastoncini? Eh, perché era legata al momento del topico della mia infanzia, in cui praticamente ho iniziato a mangiare un po' di più. Ok. ed è praticamente la storia più divertente della mia famiglia. Mia mamma doveva andare a una... Mia mamma stava facendo la notte a mia zia, che doveva partorire, e mi lasciò a casa di mia nonna, assunta. e compro una mamma si presentò con me a casa e con un pacco di bastoncini. il giorno dopo mia mamma chiama, mia nonna dice, c'è tutto apposta, ha mangiato? Eh, come non ha mangiato? Si ha mangiato i bastoncini? Sì. E quando se ne è mangiato? Eh, tre anni, tre anni, tre anni, che sei importante, mi hai riscordato. E quando se ne è mangiato? Tutto ucciso. 18 anni, eh, 18 anni, tre anni, 18 bastoncini. E io li ho ammai al mio vlog così, per dedicarlo a questo momento divertente. Poi durante questa... Penso c'è un record comunque... 18 bastoncini a tre anni. Esattamente ricercare questa cosa, a tre anni, 18 bastoncini. Ci sta. Ok. Cioè, mo mi mangiassi 18 bastoncini, non c'è l'idea che... C'è l'idea che... Come stavo succedendo quella sera? Sì, in una fase... Di crescita, di crescita. E niente, praticamente doveva chiamarsi 18 bastoncini. E l'ho chiamato così invece per Elio, che mi ispirò. Lo ringraziamo ancora oggi. Assolutamente. Elio, Fabio, esilio. Non voglio troppo bene. Certo. Voglio troppo bene. Che bello. E niente, praticamente chiamo questo blog così. Ah, lo sapete una cosa? Sì. Questo veramente non lo sa proprio nessuno. Anzi, se vuoi, se c'è internet, questo è uno scoop. Mettiamolo, producer. In realtà, prima del mio blog, c'è un'altra slide, cioè proprio quando lancio il mio blog, c'è un'altra sliding door. Ok. Che, cavolo, speriamo a cui interesse in sti cose, non lo sa, ci dico, mi fa piacere verrà con Davù. Quando ho deciso di scrivere, avevo questa urgenza emotiva di creare un blog, eccetera, eccetera. poi vi spiego perché vuol dire quest'urgenza emotiva che mi ha portato a voler a voler scrivere. Io ho anche un'altra passione, ho anche un'altra passione, che è quella del cinema. Ok. E niente, praticamente, in quella famosa cartella nascosta che vi ho detto prima, esistevano due pilot. uno era delle avventure culinarie book and made, ed era l'articolo di Mazzilla. Un altro era il pilot, il primo articolo di un blog sul cinema che si doveva chiamare la sindrome di Morris. È una lunga storia, la sindrome di Morris, che si chiama così, che è legata a quello che era molto proprio in mente la gendina metropolitana che è l'attrice del mio film preferito, Vertigo di Hitchcock. Ok. Ah, Vertigo di Hitchcock Kim Novak. Sì, sì. Kim Novak, si dice, c'è una legenda metropolitana che in realtà Kim Novak è geneticamente uomo. Ok. Feminizzazione testicolare, una condizione psicologica che è in realtà in realtà. È geneticamente uomo perché venivo dal mio mondo in cui in questo blog volevo partire dal fatto che nella vita faccio il ricercatore ma la notte in quel momento mi abbuffavo i film, tre film pure, due o tre film al giorno pure ero arrivato a guardare. Ah, la mattina, immagino, poi la mattina dopo. La notte, la notte. E praticamente, scrissi questo pilot e poi ho deciso no. Questo qua. E sono ancora più d'effetto perché è schioccato e si è acceso l'uomo. Quindi hai fatto paura, hai fatto paura. Più che altro lo sto allenando con il guando di Thanos e mi sono bravo. E ci devo pensare una cosa, quindi tu nel momento sbagliato forse esiste, scrivi la sindrome di... Esiste ancora, non l'ho mai cancellato. È la sindrome di morris punto wordpress punto com. Cioè io infatti stavo per dirti nel momento sbagliato tu avresti potuto cliccare su quello invece che l'altro e non diventare poc. Oggi esiste poc. Perché esiste poc e mad perché esiste l'avventura con le nati poc e mad. Un archivio cinematografico. Stiamo trovando male. Cioè questo sei tu. Questo non sa nessuno. La sindrome di morris. Il codice alla base della razza umana e il suo spiego cosa è questa condizione. Mi chiami Gidio, ho quasi 25 anni, di giorno studio biotecnologie, lavoro in laboratorio e la notte vedo film. Ho quasi 25 anni. Ma ne ho quasi 35. Cioè questa è la sliding door per me. È una capsula del tempo 10 anni fa. L'ho lasciato là. Lo sanno pochissime persone. Anzi sebbene mi hai seguiti c'è stata forza la pagina vista ma la seguo solo io però la sindrome di morris che poi del tempo mi stavo voglia la pagina vista e chiuso stavo magari un giorno o ripesco questa parte. Domanda stupida però curiosità. Hai qualche pentimento cioè nel senso l'avresti voluta portare avanti? No, no, no. Tornassi indietro No, 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 ragazzi cioè io sono Trovata, eccola qua. Oh, 18 follow. 18 follow. Non hai fatto nulla. No, forse perché no, no. Zero profili seguiti. Non ho idea perché c'ha 18 follow. Tutti i bot. E niente che stiamo dicendo? No, dicevo vabbè sicuramente non a ripensamento. No, no, no. Certo. No, 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 no. Non ripensare non ci tengo a dire questo fatto. Io sono molto fatalista. Ah, ok. Cioè per me tutto quello che mi è successo è stato giusto. Quindi ti ha portato a questo? Sì, sì. Doveva succedere questo? Sì, ci credo molto in questa cosa. Per me tutto quello che sono grato a tutto quello che mi è successo. Anche tutte le cose negative e qualsiasi cosa nella vita penso che ti porta a un punto. Poi cioè non ho rimpianti forse che rimorso ma rimpianti zero. Bello. Cioè non ho non lo so forse nella maturità ma diciamo in generale sempre sempre pensato che quello che mi succede ha un fine o qualcosa non lo so lo so spiegare proprio bene però è un tuo sentimento una cosa che ti tranquillo. Ok. Come capisci il blog c'è da PUC PUC e Medley 18 bastoncini 18 bastoncini la sindrome di Morris che io stavo mo mo magari forse stavo ancora in laboratorio e cose ah perché stavo noi perché là erimo partuzzi esatto che tu è il biologo si apro questo blog durante la la tesi dove già lavoravo in laboratorio di biologia maicolare mi laureo ok e continuo la continuo a lavorare in questo laboratorio il giorno dopo il professore mi offre il posto nel laboratorio quindi subito dopo la laurea e mentre però lavoro quell'anno inizio a rendermi conto che forse non era la cosa che mi rendeva davvero felice mi piace tantissimo quello che ho studiato mi piace tantissimo il significato di fondo di quel lavoro ma la vita di laboratorio non era vita per me però non avrei mai trovato il coraggio di cambiare se non mi fosse successo un fatto avevo tanti dubbi dicevo ma nonna mia ma io sto facendo una cosa così bella sto creando un fatto sto quando esco dal laboratorio vado a fare vado a mangiare in un posto per fare un articolo mi sento così vivo mi sembra quasi che sto perdendo tempo a lavorare rispetto a fare questa cosa e ti devo dire la verità oggi sai tante persone sanno la mia storia che prima facevo una cosa e poi facevo un'altra dicono è stato coraggioso però ti dico il fatto del fatalismo che ti ho detto prima forse c'è stato un fatto che mi ha aiutato anche essendo negativo stavo tornando era luglio del 2014 stavo tornando da fare un articolo con Maria è messa mia pietra amica belli pienotti sullo scooter praticamente facciamo un incidente stradale un frontale con un altro motorino e ci ritroviamo cioè lei è un po' sgarruvata io all'ospedale all'ospedale con un braccio con il gomito rotto completamente ancora oggi questa non arriva qua vedi è vero non arriva e niente praticamente che succede la notte arriva all'ospedale e per caso passò da quelle parti un amico che frequentavo in quel momento Nicola si è salito a San Paolo e dissi Nico per piacere prenditi il cellulare dalla tasca che è stato da scarico portagli la Teresa ai miei compagni e fammelo carica Nicola si prende questo cellulare e se ne va nell'ascensore va ad aprire il cellulare e praticamente lo trova con un buco al centro è tutto spaccato radialmente quindi un buco proprio bello profondo al centro del cellulare e il cellulare ha ammaccato tipo banana ok e nonostante non so se vi ricordate quelle cover ricaricabili che pareva Batman nel cellulare si si nonostante questo era piegato così praticamente era il pomello del freno del motorino che se non gestivo il cellulare tipo la bibbia ti rovinava no mi potevo tranciare la hort la femorale non mi ricordo ok e praticamente quella sera ebbi proprio uno shock dissi no non è possibile cioè il cavo doveva rimanerci veramente questa volta e fino a ieri mattina stavo nella condizione in cui non tenivo coraggio di fare una cosa no e allora praticamente la mattina dopo la prima cosa che feci è iniziare a parlare con la mia compagna e dissi io ho capito stanotte che se che sono un fesso se non provo a fare quello che mi rende felice nella vita ho detto ho la fortuna e anche la bravura di aver creato qualcosa che mi sta rendendo veramente felice e che potrebbe diventare qualcosa di importante ho detto e te reisi mi guardo fra vent'anni e dico fra vent'anni vent'anni dopo mi riguardo indietro e dico ma tu puoi fare una cosa bella avevi costruito un fatto importante che ti rendeva veramente felice non l'hai fatto sarei andato in profonda depressione se non altro e quindi l'hai proprio uno switch mental cioè una strunzata dove c'è via barba che tengo oggi che concorre al logo no è iconica la mia barba in una brutta non la portavo così perché a Teresa non piaceva a Teresa piaceva più curta fina fine quasi come ce l'ha quasi come ce l'ha lui e io magari in quel momento capito ero anche in queste piccole cose non avevo quegli switch di coraggio invece ho detto no Teresa oggi voglio far crescere la barba voglio far crescere la barba non mi interessa cioè e non solo non voglio fare il lavoro che faccio andai da mia mamma e mio padre che giustamente venti nei loro panni sì impiegato casalinga se fanno una mazza a taralla per far portare all'università vero non ufficio che si laurea alla grande c'è 10 di mezzo nella carriera io non apprezzo ci offrono un contratto di lavoro bene chissarò un incidente statale di cibo che faccio queste cose voglio mettermi a fare le foto a cibo capito anche se sì no dove più o meno dire così perché a quel tempo non capivano manco i miei genitori quello che facevo ancora più difficile da spiegare mio fratello non ha poi mi sfotteva mio fratello mi fatti con me cioè mi sfotteva mio fratello diceva ma che fa ma che resti ok però io dissi beh io dissi vicino a mio padre mio padre devo dire la verità fu un grande capito e che sì e che dissi beh non io onestamente sta cosa mi ha scioccato e voglio darmi minimo otto mesi di tempo mi sono dato un anno in laboratorio ma mi voglio dare otto mesi di tempo per vedere se dedico il mio tempo a questa cosa e cosa succede ok fatta bene e cosa succede beh perché tu non lo potevi sapere noi adesso abbiamo quantomeno una vaga idea se ti dedichi su internet cosa puoi fare sui social cosa puoi succedere tu che lo hai inventato sì avevo pochi modelli di riferimento al massimo i The Jackal in quel momento capito che comunque facevano una cosa diversa sì sì però erano comunque persone che avevano dedicato la loro vita a questa passione e lo facevano con quel mood con quello stile non da ancora professionisti che sono oggi capito certo e quindi veramente quelli erano gli unici modelli di riferimento hai ragione tu ti sei merato proprio sì e ti si vicino a mio padre non mi dire niente se mi do il tempo fino ad agosto era fino ad agosto se riesco se vedo che questa cosa ha veramente un senso va bene se no mi ha fatto un dottorato all'estero che è successo in otto mesi? dopo tre mesi dal io lascio finisco il laboratorio dicembre 2014 quindi qualche mese dopo l'incidente quindi ho fatto altri mesi dopo l'incidente nonostante avevo fatto da recuperare quindi era pure difficile però a gennaio inizio quindi io e il mio blog e più che il mio blog si era già diventato in una fase in cui non ci vuole non era soltanto il mio blog ma si era creato proprio un progetto personale ok dopo tre mesi quattro mesi faccio un video che forse qualcuno di voi avrà visto ma non sapete neanche che l'ha già fatto è un video che praticamente è andato in tutto il mondo tutto il mondo ha girato hanno visto l'hanno usato la mezza politica italiana vediamo se lo sa aspetta mezza politica italiana per fare campagna elettorale è stato sui giornali più importanti schiocco un attimo le dita per favore dobbiamo migliorare però è andato è andato qual è questo video? lo dico io McDonald's pizza a portafoglio ragazzi allora io sono un enciclopedia vivente quando si tratta di poche med basta ok ok cosa riassumiti questo video niente praticamente McDonald's fece questo questo video in cui è costruito ad arte in cui c'era una famiglia in una pizzeria napoletana con una fotografia cuba c'era proprio triste questa pizzeria il cameriere va vicino alla famiglia va vicino al bambino e fa tu che cosa vuoi il bambino fa un happy meal e si ritrova catapultato questo bambino in un McDonald's super colorato super bello no e il video finisce con tuo figlio sa cosa vuole un happy meal 4,5 ok e io faccio tutto il contrario grazie avevo questo amico che lavorava in Ete Giaco al Giuseppe Tuccillo bravissimo che mi aiutò a fare questo video quindi anche Peppe è stato importante per me dove praticamente facevamo il contrario c'era questo bambino che stava con la famiglia questo bambino bellissimo no no che stava con la famiglia ha un fast food generico ah ok ha un fast food generico si avvicina alla cassa la bambina la cassiera fai tu che cosa vuoi e fai ma la cassa fa questa cipersi voglia pizza e si ritrova catapultato a via dei tribunali con questa pizza a portafoglie che si inguaccia mentre si mangia il video finisce tuo figlio sai che cosa vuole pizza a portafoglie in euro in euro in 50 tu sei finito virale per quello milioni milioni di visualizzazioni questo era facebook dappertutto facebook dappertutto hanno usato politici è stato sui giornali di di mezzo mondo corea taiwan non lo so comunque la mia pagina penso che quel giorno fece uno schizzo da all'epoca non era facile oggi è facile di follower io me le sono io ho secondo me una delle una delle mie forze è il fatto che ho creato uno zoccolo duro vero all'inizio su facebook pure cioè io ho festeggiato i primi mille follower e li festeggiavo cioè io ho festeggiavo di duemila follower ho festeggiato oggi duemila follower se dovessi fare un progetto li faccio in un'ora si capito un progetto nuovo invece in quell'epoca festeggiavo queste cose e niente quella pagina costava tipo venticinque mila follower ci arrivo a quaranta in un giorno e questo attirò subito i riflettori cioè tutti si scetano ma chi è visto media company importante a Napoli web agency come si deve alla grande grazie a questo che ti ha lanciato si 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 ha tirato l'attenzione di tante persone che però volevano fare qualcosa che a me non mi piace volevano commercializzare la la mia immagine cioè volevano far diventare il mio progetto qualcosa dove che tu non volevi dove piazzarci dentro pubblicità cose ma come fa niente ma fa st'effetto neon bellissimo calcio tattico calcio tattico no sarebbe stato assurdo la terza volta di fila sarebbe stato assurdo ogni tanto hai la toccatina ma si e si emoziona per il giro stavo pensando a quello che mi hai detto prima fuori le telecamere cioè il fatto che ogni tuo panino cioè quindi sentendo la tua storia ti rispecchia il tuo brand ogni tuo panino è racco cioè c'è un bel salto in avanti però temporalmente parlando no però sto pensando a quello che mi diceva cioè la maggior parte dei suoi panini raccontano una sua storia un suo piccolo pezzo di storia alcune sue diciamo avventure disavventure ogni ingrediente è stato messo in quel panino per quel motivo cioè faccio un salto in avanti anche per come dire voglio parlare di tante cose non sono diffuso collegamento cioè collegamento comunque è giusto lo possiamo collegare in un certo modo al fatto che proprio quello che stavo dicendo il fatto che queste persone vogliono commercializzare ma in realtà io se andate a vedere io la mia immagine personale non l'ho mai mai commercializzata come oggi magari fanno gli influencer fanno i food blogger di queste nuove generazioni io non ho mai venduto un euro con la mia immagine ho sempre pensato che la mia immagine dovesse essere più libera sempre libera sempre libera di fare quello che volevo sempre libera di esprimermi sempre libera ieri di fare un video di 10 minuti in cui parlo della pasta e cavolo e dei miei trami infantili e non devo vendere qualcosa a qualcuno con la mia immagine anche perché non avrebbe senso altrimenti tu hai ti sei licenziato e hai scelto questa carriera proprio per fare quello che ti pare a te quindi se tu ti fossi tra virgolette venduto quello che sicuramente rispondeva comunque all'urgenza emotiva di cui ti parlavo prima e che volevo arrivarci adesso cioè io quando l'avevo aperto il mio blog non l'avevo aperto perché pensavo che sai intanto si usa questa parola non lo so se usarla però è un po' da pionieri quello che ho fatto e sai i pionieri tracciano delle strade e queste strade vengono prese da persone che magari sanno dove si può arrivare chi lo fa inizialmente secondo me i pionieri non sanno neanche a cosa può portare quella cosa quello che hai fatto lo fanno per il piacere di farlo certo ok non lo fanno per arrivare a quella strada e magari oggi la strada che ho spianato io è stata da canovaccio per tantissime generazioni di blogger per arrivare a un punto dove io non ci voglio andare nemmeno questo è bello e niente io l'ho sempre fatto come wow l'ho sempre fatto per perché avevo questa urgenza emotiva di raccontare me stesso di far uscire il mondo che ho dentro ok perché da piccolo ho sempre avuto un po' di difficoltà nel nel tirar fuori questo mondo che è dentro di me e che secondo me è bello ok e attraverso il blog anche se raccontavo di un posto dove andavo a mangiare tra le righe leggerai me stesso leggerai mezza storia della mia vita e questo è quello che facevo con il mio blog e con il mio passaggio e non avrei mai voluto che qualcuno potesse avere del potere commerciale su questa cosa cioè è bravo hai detto bene cioè prima lavoravo in un laboratorio magari il mio nuovo padrone erano i soldi capito che magari la mia espressione veniva veniva indirizzata sfruttata ma non solo sfruttata cioè io proteggo anche me stesso proteggo sempre il il me in quel momento so che non volevo fare queste cose e so anche lo proteggo anche da me cioè nel senso non mi voglio cerco sempre di non trovarmi nella situazione in cui essere affascinato da qualche dinamica che non mi piace capito non mi sarei voluto ritrovare nel momento in cui ma però se faccio questa cosa mi busco una cosa di sordo ok non ho sfruttato ho capito ho capito non volevo neanche che la questa purezza di base potesse essere in qualche modo deviata addirittura da me che magari poteva affascinarmi a un certo punto ma che bello mi vado a parlare di questo posto mi ha anni soldi mi vado a parlare di questo posto mi ha anni soldi e io non voglio essere questo cioè non è il motivo per cui ho iniziato a fare sto blog cioè quasi una cosa ti sei posto tu dei limiti per mantenere l'originalità cioè l'idea iniziale da questo punto di vista sì ho tantissimo autocontrollo ci tengo proprio tantissimo a non tradire quel ragazzo capito non voglio tradire quel ragazzo cioè non voglio tradire le origini da dove sono venuto come ho iniziato senza dimenticarmi quello che ho fatto perché ho iniziato quindi la passione e quando ci sei riuscito e sei arrivato hai iniziato a vedere che la cosa volava non c'è stato uno switch nel tuo cervello di pensato ok adesso posso permettermi di stare un po' più sereno rilassato hai mai perso diciamo la bandiera ti sei mai sentito spaisato o perso te stesso poi in questo viaggio no ho sempre capito in tempo quando stava per succedere un fatto del genere ho sempre capito quando poteva succedere qualcosa che tradisse quel ragazzo ok ho sempre capito questa cosa è come se avessi un radar super mentalizzato sì no più che mentalizzato più che mentalizzato è perché quando ho fatto questo blog effettivamente avevo un'urgenza emotiva di parlare di esprimermi cioè fare tutta una serie di cose che tradiscono questo perché di base fanno cadere tutto fanno cadere tutto dopo cosa sei sei più niente non sei più niente e secondo me una persona viene ricordata viene apprezzata viene stimata nel momento in cui riesce a esprimere se stesso veramente perché se no è l'ennesimo prodotto di supermercato no? ragazzi questa è la missione dell'anima di Egidio ne parlavamo qualche episodio fa con Mario Artiaco abbiamo un ospite che è stato al posto tuo qualche puntata fa molto spirituale sente molto forte questa componente parlavamo della missione dell'anima e che cosa è per te la missione dell'anima parlavamo di buddismo se non sbaglio esatto e adesso ogni tanto con gli ospiti che vengono ci piace vedere qual è qual è la missione dell'anima magari questa è la tua no no ma si sente si percepisce il cuore esatto tu sei spirituale secondo me è tantissimo anche se non sono cioè sono ateo non credo in niente però sono molto spirituale si si ho capito ho capito no sai perché c'è la testa risposta che quando mia mamma vedrà si intervista ma magari poi dice ah allora non ci credo una volta no voglio spiegare a mia mamma che è supercattuale che non sono credente ancora mamma ma in realtà sono molto spirituale ma secondo me che lo so ce lo sa io vivo molto nella mia testa penso molto penso tantissimo sono il mio lavoro forse veramente è pensare e rifletto molto sulle cose cerco sempre di andare in profondità molte volte anche fin troppo però penso che sia giusto così cioè quando certe volte ci sono stati momenti che ne so sembrava che si avessero avendo un momento di crisi magari dicevo crisi però identitaria è sempre quella identitaria no crisi no crisi materiale quelle che sta avendo il nostro non là dietro non quel tipo di crisi quando ho crisi dico sempre vicino alla mia compa quando vedo che io ho queste crisi sappi che è una cosa buona vuol dire che cambia me sappi che è una cosa buona perché sto pensando la prossima mossa no non la prossima mossa ma sto pensando a fare la cosa giusta ok che è diverso bello wow si sono tanti sono spiritualissimo bello domande a terremoto adesso più rapide il panino che hai creato che ci hai messo più tempo proprio per crearlo aspetta innanzitutto il primo panino di Puok Django Django che hai ideato proprio che ti è venuto in mente Django è nato prima di Puok ah ecco figurati voglio fare il panino con questo questo e poi ci chiamiamo Puok ok Django è nato prima di Puok che poi tra l'altro penso sia uno dei tuoi più venduti è il più venduto il più venduto Django è nato prima di Puok non sapevo manco dove aprivo il locale non sapevo manco come si chiamava non sapevo manco però sapevo già dove volevo fare sto panino ok tanto è vero che prima ancora di trovare con i miei soci di Puok eccetera eccetera ci aveva provato un altro e se non erro quel Django l'ho provato anche insieme a questa persona se non erro una specie di Django l'ho fatta anche in questa persona e quindi cioè magari quello era il Django e non lo sapevo ti ha aiuto perché avevo già questa idea di questo questo cheeseburger alternativo che alla fine Django è quello ok avevo questa idea e Django tu tra l'altro poi hai creato una cosa che prima Napoli Food si divide storicamente da secondo me questa è un'opinione personalissima non me ne vogliano tutti i food blogger che ci guardano numerosissimi Napoli si divide secondo me in pre-Puok e post-Puok è vero però è vero nel senso che parli del locale parlo del locale oltre che del fenomeno quindi cioè a prescindere dalle avventure uninari di Puk e Medi io ti parlo del locale il fenomeno del panino del mese è una cosa che io per esempio all'epoca avevo 16 anni penso 15 quando insomma Puk è cominciato e fu stranissimo perché non si era mai visto capito un posto innanzitutto l'identità cioè come dicevamo prima anche a telecamere spente cioè il fatto che tu non puoi venire e comporti il panino cioè il panino è quello perché io non ti sto tenendo un panino banalmente ma ti sto vendendo il panino pensato da me cioè ti sto vendendo un concetto perché voglio che tu viva determinate situazioni sensazioni situazioni quell'esperienza lì e addirittura per ogni mese io insomma creo un panino apposta di modo tale che innanzitutto ti vieni a mangiare il panino nuovo ogni mese fondamentalmente ma poi banalmente hai sempre un motivo nuovo una nuova esperienza da vivere dopo Puk questa cosa è esplosa in tutta Napoli anzi in tutta Italia probabilmente è una nuova storia da leggere è un nuovo album nuovo singolo bellissimo della band che figata quando ho fatto i panini del mese avevo questa idea che fossero quasi come il nuovo singolo c'è il nuovo drop capito il nuovo album di Puk il nuovo singolo di Puk o meglio ancora come quando da bambini c'erano le figurine panini io quello non ce l'ho magari quello là non l'ho provato guarda che diverso sì sì volpi appoggi bellissimo bellissimo no eh qual è il panino che ti piace più? Demogorg qual è il panino con la storia più bella e mi racconti la storia? Hadouken Hadouken ok ma allora Hadouken parte è la versione super di un panino che abbiamo fatto a un evento al Nabila portamossi due panini Ryu e Ken erano molto semplici e Ken aveva l'hamburger il formaggio le cipolle caramellate vecchio old school noi le chiamiamo e basta mi piaceva questa comunque questa base e volevo creare un panino che però fosse più poco che agli eventi dove sta un po' più semplice perché anzi era il nostro primo evento andammo proprio leggeri super cauti con i piedi di piombo e niente praticamente Adouken sarebbe ovviamente Adouken esatto quella là l'onda energetica di di Tekken di non sono gamer perfetto mi avete sgamato subito e Ken e comunque di Ryu e Ken e niente praticamente oltre a questi ingredienti che aveva il Ken abbiamo aggiunto gli arachidi un burro d'arachidi e gli arachidi le arachidi salate e c'era anche il bacon l'ho detto prima c'era anche il bacon ok comunque l'idea quale era l'idea era quella di mi piaceva tantissimo un sandwich che fanno in America che si chiama il peanut butter and jelly sandwich dove praticamente si mangia col burro d'arachidi e una confettura una marmellata è fantastico allora pensavo la cipolla caramellata old school ha quella dolcezza quasi di una marmellata come sarebbe buono l'abbinamento con un burro d'arachidi fatto come si deve e che mi ricorda questo sandwich di base e mi ricordo che andai a cercare quindi questi burro d'arachidi e tutti quelli che c'erano in commercio super chimicone che quando lo mangi sai quelli che tallappano proprio la bucca sì sì cioè non mi piace e poi costavano con uno cofone di sort ok cioè era perché in Italia non si portava era immorale mettere mettere era immorale cioè immorale mettere quel burro d'arachidi in un panino che tallappava costava pure il triplo il quadro e allora che facemmo perché volevo fare questo panino no no io e la mia compagna sì dice ma sai che c'è andiamo a un attimo supermercato comprammo delle arachidi salate e ti ma caso nel robot di casa da piccolino dove abitavamo prima mettiamo due ingredienti che secondo me due perché oggi il nostro burro d'arachidi lo facciamo noi ah voi fate anche il burro d'arachidi ne facciamo quasi tutto se vuoi ti spiego il nostro burro d'arachidi lo facciamo noi e nel frattempo fai il caffè esatto faccio un caffè se no non si chiama espresso stai salivando e facciamo questo burro d'arachidi bello che c'ha questa puntella di sale dentro non ha l'appo ok 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 quindi eravamo contenti che avevamo fatto noi comunque parte questo panino e parte come panino del mese ebbe un buon successo come panino del mese ma non come che ne so Icon Targaryen Icon Targaryen era quello con le zucchine tipo con la crema di zucchine le zucchine un po' come la Nerano ok 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 quello solo quello Icon Targaryen ne vendemmo 7000 in un mese al vomero 7000 panini solo 7000 in un mese e quello è il mio più grande orgoglio perché non si vedevano in giro panini con le zucchine crema di zucchine e io ero contentissimo perché avevamo fatto mangiare i panini che zucchine a 7000 persone in un mese guarda che cosa vai a pensare tantissima influenza che cosa vai a pensare le mamme di Napoli schifano a Puc perché dicono tu a casa non ti mangi e tu a casa del panino che ti mangiate papacello che ti mangiate zucchine che ti mangiate tu a casa hai cipolla tu a casa non ti mangi niente e invece da Puc e infatti tante persone oggi ci ringrazio tanti ragazzi guarda sono pure cresciuti tantissimo tipo tipo me non si è fatto 15 anni grazie ai tuoi panini si è fatto così dimende lo preferisci amare così alto si è fatto grazie ai tuoi panini e niente praticamente questa token se i contagi non tantissimo così però praticamente sai solitamente lo schema era questo se un panino va molto molto forte provi a tenerlo a un menu fisso cosa difficile da noi perché comunque abbiamo un menu molto piccolo e abbiamo un menu molto piccolo che dobbiamo ruotare perché comunque siamo due piccoli tech away come locali quindi non è che se tenessimo un menu di 20 panini con numeri di panini che vendiamo che ne so le scimmie che devassero dall'alto appese altre salse gli ingredienti che stanno per tutti impossibili quindi dobbiamo ruotare quindi un panino se va forte magari lo mettiamo ok per esempio quello che avete mangiato Democorgon è stato un panino del mese fortissimo l'abbiamo tenuto adò che non doveva avere questa vita ok doveva andarsene e invece praticamente dissi no io ci credo in questo panino perché secondo me questo panino come Democorgon come alcuni altri proprio importanti non funziona non avevo questo dato avevo che funzionava abbastanza bene però secondo me è molto identitario capito è molto identitario quindi tu mi rigiochi sempre sul fatto della storia sì sì ci ho creduto sul posizionamento mentale che oggi l'affuri al freddo c'è una setta di adhoken oggi se io tolgo adhoken dal menù non so cosa succede ti andrò a cercare no non ho una idea sono sono cioè tu hai creato una community che è fan del gusto di quel gusto di quel panino sì 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 sono le squadre sì sono le squadre cioè uno porco verde un altro un altro adhoken un altro team django team demogorgon ma quelli di adhoken non fanno paura che quelli di adhoken ci tengono proprio assai a questo manino cioè insieme a dirlo lo tolgo quelli di adhoken insieme a dirlo io ricordo i tempi come era pull and poke sì quello nel primo menù esatto e lì pure quando si parlava di rimuoverlo o non rimuoverlo dal menù successe il primo mondo mamma mia io sono peggio sono stato peggio di martin nel trono di spada non ci ho fatto morte e ferite sì sì cioè ho tolti l'ho messa ho fatto un po' imbazzire io sono fatto se presto all'ora ma ho fatto un po' imbazzire ma era necessario però è bello rendere partecipe il pubblico la tua community nella scelta sì l'altro giorno ho fatto proprio questo ho fatto una storia nel mio file excel dove tengo il plan dei panini e ho mostrato il menu attuale ha detto è il mio prossimo chi leva ecco ho detto proprio non so chi togliere non so chi togliere e le risposte nella box domande fai scegliere al pubblico solitamente no certo che no ok no 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 leggo tutto ascolto tutto ascolto tutte le critiche però siamo ci teniamo sempre alla nostra sto vedendo dei quadri sto vedendo dei quadri questo è gomu 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 eh disumano e Giti un'altra cosa che mi viene che mi viene in mente tu li mangi i tuoi panini sì quanto sì li mangio soprattutto durante la progettazione però ok ok quindi nelle varie fasi sì 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 l'alfa test il beta test io ho visto tutte le fasi dei sai dei dei panini di Wook quello guarda quei friarelli che avete mangiato quello forse è questo sì è questo faccio fare una resata questo oggi è un burger burger di maiale provola friarelli patate dolci maioni di salaglio inizialmente era una ciabatta con carne ragù e friarelli ecco ti ricordi tutti i procedimenti uno per uno tutto penso tanto e le vive intensamente queste cose quindi le registro in HD esiste qualche pagino e poi io credo una cosa ti ho detto prima che io la mia vita è scantina a momenti culinari no? sì sì perché secondo me il cibo forse solo il sesso è così durante quando mangi tu utilizzi tutti i sensi tutti giusto e secondo me è come se tu hai stai registrando in HD qualcosa cazzo che bello non l'avevo mai vista in questo modo qua tutti i sensi pensaci sì sì olfatto è certo gusto è certo tatto certamente vista soprattutto per me secondo me e poi beh pure l'udito cioè se una cosa è crunch bellissimo ragazzi non ci avevo mai pensato vero sì quindi ci ricordiamo assai i momenti culinari e i ghiandelli eh soprattutto eh sì soprattutto ok anche 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 wow Egidio è fantastico aver raccontato attraverso la tua passione i tuoi panini il tuo prodotto la tua storia e io cioè ti ringrazio ancora per averci portato la cena perché ci ha portato la cena Egidio la cena che tra parentesi erano cinque panini e abbiamo mangiato io ne ho mangiati personalmente due e mezzo tra tutti i vari assaggi io ho pure dato qualche capata bella importante spero che il caffè ti sia piaciuto e grazie per essere stato con noi grazie a voi ragazzi grazie baciamolo ma no che so già